Buongiorno, ben trovati, ben alzati e benvenuti a questo appuntamento quotidiano con i giornali. La rassegna stampa di Fano TV sono le 7.30, siamo in diretta come tutte le mattine dal lunedì al sabato per mostrarvi quello che troverete in edicola. Naturalmente lo facciamo non prima di aver visto la manaco del giorno, santo del giorno e poi naturalmente le previsioni del tempo. Guardiamoli insieme, oggi è martedì 4 aprile, Sant'Isidoro di Siviglia, Vescovo, il sole è sorto alle 6.43 e tramonterà alle 19.39. Previsioni, evoluzione del tempo, vediamo quelle di oggi, sereno, poco nuvoloso con maggiori addensamenti nelle zone interne. Precipitazioni, non si escludono brevi isolati piovaschi nel pomeriggio, però più che altro nelle zone montane, le temperature sono in aumento nei valori massimi. Vediamo l'evoluzione del tempo per domani, peggiora leggermente, vediamo appunto sereno, poco nuvoloso, con aumento però della nuvolosità, fino a cielo nuvoloso nelle ore centrali della giornata e nelle zone interne, vedete dove compare anche la simbologia della pioggia, quindi possibilità di deboli piovaschi nelle zone interne, sempre nelle ore centrali della giornata. Sulla costa vedete c'è un sole e una nuvoletta, quindi insomma tempo variabile. Le temperature, anche questa in diminuzione, nei valori massimi, quindi le temperature hanno una tendenza a scendere. Ed infatti vediamo che progressivamente il tempo peggiora. Per giovedì, vedete, molto chiaramente di sole non se ne vede manco mezzo, se non un piccolo capolino nella provincia di Pesaro e nelle basse marche. Cielo parzialmente nuvoloso, per nubi medio-basse, in ingresso dal mare. Precipitazioni, rovesci e temporali sparsi nelle ore centrali, più insistenti nelle zone interne, ma in esaurimento in serata. Le temperature sono stazionari, in lieve diminuzione, i massimi, i valori massimi. Bene, e quindi questo era il tempo per le prossime 48 ore e guardiamo i giornali. Partiamo dal Corriere Adriatico, la pagina di apertura dell'inserto pesarese. Eccolo qua, in testa di pagina si parla di VL, di basket, la squadra di Pesaro in crisi profonda. La società va in ritiro, i tifosi affrontano i giocatori, la società sanziona tre elementi e quindi questa è una notizia in primo piano. Poi con l'arrivo della primavera, vedete qui l'occhiello, in questa fase dell'anno, il rimedio per combattere un po' così il calo di forze è il sonnellino, per chi ne ha la possibilità naturalmente. E poi la regione Marche al BIT presenta il piano per rilanciare il turismo e poi chiede una visita oncologica. Il primo posto è a dicembre 2018, il richiamo di Luigi Benelli. Le marche che hanno bisogno di un rilancio, soprattutto a livello turistico, per via dei tanti annullamenti di prenotazioni dovute al terremoto, che ha sicuramente creato un po' di panico nei turisti e sicuramente molti hanno deciso di andare altrove. Allora la pagina che riguarda appunto la crisi della Scavolini, VL ha un passo dal precipizio, il modello qual è quello del consorzio però è bocciato. Difficile gestione, zero debiti ma un budget inadeguato, la 2 vicina, la città si sente però tradita. Amadori, posizione congelata, vedete qui in questo articolo e anche nelle foto tutto il calore dei tifosi che alle volte si trasforma anche in contestazione. Il sindaco Matteo Ricci dice capisco l'amarezza ma gli imprenditori, il presidente vanno ringraziati e non contestati, ma come sempre insomma il tifoso è tifoso a tutto tondo. Primo piano, Pesaro, lotta ai falsari, che cosa va in scena? La nuova banconota da 50 euro che fa già gola, il taglio più contraffatto, la finanza aumenta i controlli, da oggi in circolazione la banconota dedicata all'Europa, il direttore di Banca Italia dice fenomeno rischia di accentuarsi lungo la costa durante la stagione estiva, chiaramente molto flusso turistico, tanta gente e anche eventualmente grande flusso di denaro contraffatto. L'abbiamo visto nel richiamo di spalla nella pagina di apertura questa vicenda che riguarda una prenotazione, telefono al CUP per fissare una visita per un controllo endocrinologico e la prima data utile è dicembre 2018 per un posto disponibile, deve aspettare 20 mesi. Alla fine, dice colui che ha effettuato la prenotazione, ho scelto l'ospedale di Rimini perché me l'hanno fissato a maggio prossimo, quindi insomma qua un anno, un anno ma insomma perlomeno è meno di 20 mesi. Andiamo nella pagina di Urbino del Corriere Adriatico, partecipate, scatta il riordino, addio a Convention Bureau, l'ente locale detiene l'1,21% e avrà tempo fino al 30 giugno per individuare chi non rientra nei nuovi parametri. Il Comune è obbligato dalla riforma Madia, terre ducali a più amministratori che dipendenti. La pagina invece di Fano del Corriere Adriatico, si parla del grande murale per il Lisippo che verrà realizzato in quest'area, la marina di Marina Gruppo ha preso l'impegno di realizzare un'area canteristica e pesca, zone di sosta dotate di banchine e banchine sono naturalmente per chi va lì a passeggiare. E quindi questo grande murale lungo la murata di cemento, che tutti quanti conosciamo chi è stato lì, lungo 400 metri di passeggiata, è un progetto degli studenti dell'Istituto Olivetti e Seneca, tra porto e mare. Vedete qui nella presentazione il Sindaco ha promesso di rendere accessibile l'ingresso seminascosto tra i bagni e un muro. C'è un piccolo passaggio vicino all'Istituto di Biologia Marina e uno stabilimento balneare che fa in modo che si possa accedere a questa bellissima passeggiata, bisognerà renderlo un po' più transitabile. Forze dell'ordine sotto organico e videocamere scollegate tra loro. Fratelli d'Italia propone al Comune di riorganizzare il corpo dei vigili urbani. Al Via un corso gratuito per autodifesa per le donne. Domani a Cucurano il primo di otto incontri. Questa è una delle pagine di Fano del Corriere Adriatico, vi faccio vedere anche l'altra, che ritrae un inedito sindaco che vedete qui alle prese con mattarello, uova e farina. Si è prodotto in questa performance alla tagliatella del Vespista, la competizione organizzata dal Vespa Club per la pasta naturalmente fatta a regola d'arte, valutato anche lo spessore. Seri non si nega la prova delle tagliatelle ma arriva ultimo, però sicuramente si è prestato. Vedete qui tutti i contendenti della gara, insomma, doc della tagliatella. La Val Cesano, invece, la pagina della Val Cesano, non solo il nuovo comune, si vota per quattro municipi, il territorio ha diverse liste per scegliere un prosindaco e due consultori. Ecco le regole da seguire, tutta nella pagina della Val Cesano. Andiamo anche nella pagina di Senigallia, così archiviamo il Corriere Adriatico, si parla di furti, le portano via gioielli e risparmi, ma ha aperto lei la porta ai ladri. Ancora un'anziana, naturalmente, obiettivo dei malviventi, che ora è sotto shock per il furto subito. I carabinieri hanno ricostruito tutta la dinamica del colpo. Vedete qui la pattuglia dei carabinieri, che ha individuato due uomini che hanno chiesto di poter vedere le bollette dell'Enel. E come sempre abbiamo ripetuto, ormai sembra veramente quasi una litania quella che facciamo sempre qui da questo pulpito, per in questi casi di non aprire, di non far accedere in casa, soprattutto le persone anziane, chi che sia per controlli vari. L'Enel non si presenta a controllare bollette, non è certo quello il loro compito. Quindi, insomma, attenzione, attenzione. Apriamo l'inserto pesarese del resto del Carlino. Qui, fotonotizia centrale, vedete la nuova banconota. Eccola qui, insomma, inizia il suo corso oggi. Al grido di non lasciamoci truffare. La finanza presenta appunto la nuova banconota da 50 euro, che entra nel corso oggi. E anche qui, in testa di pagina, VL, dopo i fischi, la punizione. Squadra in ritiro a Borgo Pace. E vi faccio vedere appunto la pagina interna. Ce ne sono due di pagina interna del resto del Carlino che riguardano questa vicenda. La squadra di basket di Pesaro è nel cuore di tanti tifosi. Ha vissuto pagine gloriose di basket. Ma in questo momento sicuramente non vive un momento felice. Vedete qui una bandiera della squadra. Ario Costa, uno di quelli che ha vinto lo Scudetto con la Scavolini. Insomma, ora la squadra è in ritiro a Borgo Pace. Costa dice, scusate, Costa dice, speriamo di ricompattarci una decisione punitiva. Ma voglio che i giocatori riflettano. Quindi alle volte tocca dare anche una strigliata per cercare di riprendere un po' le fila del discorso. Operazione dei carabinieri fruttuosa perché è stato assicurato alla giustizia un 22enne che rubava jeans al centro pala. Sarà stato denunciato anche il palo che è un minorenne e un 16enne. Vedete qui nella foto tutta la refurtiva ritrovata sia addosso che anche nell'abitazione dei due ladri. La pagina di Fano del resto del Carlino punta appunto sull'operazione che è stata presentata di riqualificazione, ma più che riqualificazione, abbellimento. Ecco, direi che questo è forse il termine più consono, abbellimento di questa passeggiata che già mostra tutto il suo splendore solo a passarci sopra. Però insomma, vedete, con una murata di cemento decorata il tutto viene reso ancora più gradevole. Ecco come diventerà quindi in questo reading la passeggiata. Degrado, lotta a colpi di graffiti e il comune reclota un brighter per appunto creare questi murales del Polo 3. La passeggiata dell'Isipo è quella in questione. è William Vecchietti, street artist, sindagato per riqualificare spazi urbani a partire anche dall'Interquartieri. Nella foto appunto la conferenza stampa di presentazione. E poi gestore telefonico, si parla anche di questo aspetto della nostra società, alle Calcagna, denuncio per tentata estorsione. La vicenda di Leonardo, esasperato dopo l'arevico di un contratto per internet, inizia l'Odissea. E trovate tutto nell'articolo appunto. Qui vedete, ritratto nella foto del resto del Carlino, il malcapitato. Poi i nostri soldi, telecamere al semaforo. Si continua a parlare del semaforo via 1 maggio. Al comando dei vigili, il popolo dei recidivi. C'è chi ha preso addirittura anche sette multe passando sempre con il rosso nello stesso punto. Bene, attenzione. Attenzione quindi quando giriamo in auto. Passare con il rosso sicuramente non è una cosa della quale, insomma, possiamo dire estremamente sicura. Quindi attenzione. Attenzione oltre alla multa. Quindi insomma, è una questione anche di sicurezza. E questo è tutto. Vi lascio per oggi. Naturalmente termina qui la segna stampa. Questa sera vi ricordo, occhio alla notizia alle 20.30. I giornali tornano domani mattina alle 7.30 puntualmente. Un saluto anche a coloro che ci seguono in replica durante il corso della mattinata e poi alle 13.30. Bene, grazie e buon proseguimento di giornata a tutti voi. Grazie a tutti.